Se dovessi paragonare Zlatan Ibrahimovic a un santo, non avrei dubbi. San Cristoforo che secondo la leggenda prese il bambin Gesù e lo portò attraverso le acque. Un quadro famoso e mi sono divertito a mettere la faccia di Zlatan Ibrahimovic, mi chiedo scusa a San Cristoforo, in quel quadro di Tiziano Veceglio, il Tiziano che è conservato a Palazzo Ducale. E sopra, per non andare nel blasfemo, ho messo cose rossonere sulla sua spalla, perché Zlatan Ibrahimovic, come ha guidato il Milan di Massimiliano Allegri, mettendosi sulle spalle i grandi giocatori come Boateng, come Rubinio, come Nocerino, facendoli crescere. Stessa cosa in questi sei mesi. Si è preso sulle spalle il Milan ed è cresciuto Rebic, ed è cresciuto Chessy, ed è cresciuto Cerenoglus, ed è cresciuto Salameker. Sta crescendo con un po' più di fatica Leao. E la squadra sta crescendo e sta attraversando delle acque perigliose grazie a Zlatan Ibrahimovic. Oggi l'importanza di Zlatan Ibrahimovic è ribadita. È importante che lo tengano anche nella prossima stagione. È fondamentale. Oggi è uno a livello di carisma, di trascinatore, di esempio, ma soprattutto di importanza tecnico-tattica fra i primi cinque giocatori. Oggi, anche nelle grandi squadre, magari un po' in difficoltà. Non tanto sulla valenza tecnica, sul fare gol, avranno giocatori magari più bravi in questo momento, più pronti, ma tutti si affiderebbero a lui perché le squadre possano attraversare delle acque perigliose, delle acque mossi, delle acque non troppo calme. Ed è per questa l'importanza. Non c'è un centramanti come lui. Arrivasse un grandissimo centramanti farebbe dei gol, ma non aiuterebbe a crescere la squadra. Potrebbe non andare d'accordo con Ragnik. Se Ragnik è un allenatore intelligente, potrebbe metterselo come alleato, perché anche Ragnik potrebbe essere aiutato a incominciare a guadare queste acque rossonere che, di cui, delle quali, non conosce ancora la profondità, le buche, i tranelli, gli ostacoli. Ecco perché Zlatan Ibrahimovic. Ieri è stato stupendo. L'ho chiamato Manuel Ibrahimovic, sembrava lui costa. A un certo punto è venuto dietro, ha dato dei passaggi strepitosi ai compagni secchi. Pam, pam, pam. Zlatan Ibrahimovic. Chiaro, avrebbe bisogno di uno Zlatan Ibrahimovic a dargli quei palloni, però l'importanza di Zlatan Ibrahimovic non va mai sottovalutata. non tanto sul piano dei gol, ieri non ha avuto occasioni, altrimenti l'avrebbe certamente messa, ma proprio sul piano ambientale. Lui è, ripeto, ancora un giocatore che fa la differenza. Oltre che sul piano fisico ha effettuato due corse da 90 metri, un giocatore che, venti giorni fa, aveva un problema al polpaggio. Due corse da venti, un mostro, un gigante. Non importa se poi è uscito arrabbiato, voleva segnare. Lì secondo me Pioli ha sbagliato, ma lascialo dentro, va gestito, ha ragione anche Pioli. Però in questo momento va gestito anche di testa, così gioca anche più tranquillo. Ecco perché l'importanza di Zlatan Ibrahimovic. Scegliete Jovic, va benissimo. Ma Jovic fa crescere Rebic, fa crescere che sì, è un buon centravanti, che può fare anche dei gol. Ma è tutta una cosa diversa. Oggi chi ha Zlatan Ibrahimovic, l'ho detto ieri, dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno, citando Alessandro Manzoni, ebbene ogni squadra Zlatan Ibrahimovic lo vorrebbe. Il Milan ha questa fortuna, il Milan ha questa fortuna e quindi non deve assolutamente sciuparla. Se Ragnic, se la proprietà, parte subito con un Pioli, via. Apro una parentesi. Sembra assolutamente non plausibile, direi impossibile, come si legge in cominciare a leggersi un Ragnic direttore sportivo con Pioli allenatore. Fidatevi, mi voglio sbilanciare, poi mi presenterò. In questo momento non esiste. Poi se qualcosa cambierà, non lo so. Non esiste. Non pensate a Ragnic, direttore sportivo e Pioli allenatore. Se Ragnic arriva, fa tutto lui. Che piace o non piace. Però mi auguro proprio che la proprietà che già deve superare il discorso Pioli, che giustamente in questo momento ha visto le prestazioni, il divertimento, lo spettacolo della sua squadra, a tutti i tifosi della sua parte, deve già superare certamente questo shock. Ma partire con il discorso Pioli, via. Ma anche il discorso Ibra. Ragnic deve parlare con Ibra, tenerselo dalla sua parte, studiare insieme una soluzione. Ma chi è Ibra oggi non può permettersi il lusso di perderlo. Lui è come San Cristofano. Vai sulla sua spalla e attraversi le acque.